Ammi un giotto in i settori 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 Venga roce rogati Nelonun fungase Venga roce rogati Mami doko in i xentori Bapassami lo yazai Vi ha inepari Bapassami lo yazai Vi ha inepari Maega X2 Maega Maega Venga che la sartofi di un telefono in una bia va a lei e un patri bine a pina morando 3 mete pina morando 3 mete pina salì qui a dina padrone uva perché? so mi Dari qui a dina padrone uva perché? su mi Dari a mio cock broadly a casa mai doì a fare qui ai del barri a mio cock Wochen i del barri a casa mai doì a fare qui ai del barri Oh! Via in a mare mi vede a te bando di papapita Pone che tu porti che le vede a te bordo vita Uchi! Via in a mare mi vede a te bando di papapita Done che i tu porti che le vede a te bando di papapita O come ti percaile o te è del nardo oromita Via in bando di papapita Via in bando di papapita Via in bando di μας Via in bocadile Diliprati Grazie a tutti